Seguiteci domani alle ore 12 in diretta su Facebook. Presenteremo la nostra proposta sulla piattaforma Alex che riguarda il reddito di cittadinanza regionale. 155.000 famiglie toscane vivono in una situazione di povertà assoluta. Questa nostra proposta tende a far diminuire questo numero e portarlo a zero nell'arco dei tre anni. Seguiteci!